Teleeducato in onda stasera e giovedì con calcio e calcio e calcio e calcio più in diretta alle ore 21. La programmazione sportiva della nostra emittente mantiene per il momento il doppio appuntamento settimanale con il Parma Calcio, come è accaduto per tutta la stagione. Una necessità, viste le delicatissime e importantissime vicende che il club giallo-blu sta vivendo in questi giorni, e a fronte anche di numerose richieste pervenute in redazione dai telespettatori, che vedono dunque nelle nostre trasmissioni un punto di riferimento per il dibattito e per l'informazione a tinte giallo-blu. Dalle vicende societarie al mercato intanto. Quello in uscita, Donadoni resta in pole position per la panchina del Basilea, ma la trattativa richiede ancora alcuni passaggi e deve attendere il via libera per Paolo Sousa alla Fiorentina. A proposito di Fiorentina, il club viola resta molto vigile su Antonio Mirante e non molla neppure Gregorard Defrel, il francese a metà tra Parma e Cesena, su cui è destinata a scatenarsi una vera e propria asta. Fedal piace anche a Chievo e Bologna. Per Mendes la situazione privilegiata resta quella del Torino. Non è più un giocatore del Parma, ma continua a dettare attenzione Antonio Cassano. Il ritorno alla Sampa, nonostante dichiarazioni tattiche a ripetizione, rimane una strada molto percorribile. Possibile sinergia Milan-Sassuolo per José Mauri, con il talento argentino che potrebbe farsi un anno di ulteriore esperienze in nero-verde prima di approdare in rosso-nero. E per quanto riguarda il Sassuolo, ci sarebbe stato un secco no di fronte all'eventualità Antonello Praiti come direttore sportivo per rimpiazzare il partente nero-bonato. Grazie.